Icom è senza dubbio un partner strategico per Motorola Solutions non solo perché distribuisce l'intera gamma delle nostre soluzioni quindi dalle radio dal video al controllo accessi ma lo fa aggiungendo valore accompagnando il cliente con professionalità e competenza in tutte le fasi del progetto nei momenti di pre e post vendita. Il connubio con Icom è un connubio di successo che si è sviluppato negli anni e ha portato la crescita non solo delle nostre due aziende ma di tutti i nostri clienti. Motorola Solutions ha deciso di entrare nel mercato della videosorveglianza nel 2018 acquisendo Avigilon. Dopo questa prima acquisizione altre ne sono seguite possiamo citare le principali che sono Pelco, Ava, Open Path, Calypso, Videotech e le più recenti Silent Sentinel e IP Video. Motorola Solutions è il leader globale nel mercato delle radio e delle comunicazioni Mission Critical e ha deciso di posizionarsi con forza nel mercato del video non solo per acquisire un nuovo mercato ma soprattutto per dare ai propri clienti una soluzione integrata che possa mettere insieme video, voce, audio, controllo accessi, video analisi a supporto della safety e della security e della gestione delle emergenze. Motorola Solutions negli ultimi nove anni ha investito circa 12 miliardi di dollari in acquisizioni e in ricerca e sviluppo. Questi investimenti sono stati rivolti soprattutto allo sviluppo di soluzioni basate sul cloud e sull'intelligenza artificiale. Un esempio su tutti è Orchestrate che è la nostra piattaforma cloud based che attraverso l'intelligenza artificiale riesce ad unire tutte le tecnologie che Motorola fornisce ai propri clienti e riesce a gestire in tempo reale un evento rilevante e trasferirlo alla persona giusta nel momento giusto in modo tale da compiere le azioni necessarie immediatamente.